Donatella D'Amico è la preside dell'Istituto Mantone di Pescara, motivo d'orgoglio soprattutto per questo progetto ambizioso che vi vede impegnati e vi vedrà impegnati giorno 17 marzo presso il Museo delle Genti d'Abruzzo. Sì, sicuramente per noi è stata una soddisfazione riuscire a coronare questo impegno lungo come ben si può capire, lungo un anno intero con queste manifestazioni che avranno il culmine proprio il 17 di marzo che per noi ormai è diventata una data di grande memoria e quindi siamo felicissimi che i nostri alunni condotti dai nostri professori possano avere modo proprio di far vedere quello che è il loro lavoro, quello che hanno fatto, quindi testimoniare l'unità d'Italia a modo loro con le loro esperienze, con le loro rappresentazioni, quindi per noi veramente è un motivo di orgoglio, veramente di orgoglio. Ma secondo lei preside i ragazzi hanno sentito l'importanza del momento, l'importanza della rappresentazione? Guardi io penso che i nostri ragazzi, le nuove generazioni oggi hanno ancora più necessità di questi momenti in cui si riscoprono i veri valori, i valori che sono alla base di una nazione soprattutto in un momento in cui non si sa se questa bandiera è unica, non si sa se questi valori sono pienamente condivisi soprattutto dalla classe politica, quindi è fondamentale far riscoprire a loro proprio l'entusiasmo, far vivere questi passaggi fondamentali perché loro saranno un domani la classe dirigente.